Dramma sul lavoro e morto dopo essere precipitato da una gru all'interno dell'azienda che gestiva con la moglie la vittima Adelino Marin 69 anni residente in via Vicenza a Marostica. Da una prima ricostruzione l'uomo era salito su una delle gru nel piazzale della Bau Costruzioni adiacente all'abitazione per cause ancora al vaglio dei carabinieri e degli uomini dello Spisal ha perso l'equilibrio mentre stava effettuando lavori di manutenzione. A dare l'allarme è stata proprio la moglie che ha avvertito le urla dell'uomo mentre precipitava. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del suo EM di Bassano Marin in condizioni disperate è stato trasportato al nosocomio di via dei Lotti dove è stato ricoverato nel reparto di reanimazione ma non ce l'ha fatta e respirato dopo un paio d'ore.